Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Condiviso da Ande Ercel di Mykonos. Ande Ercel, che è stata all'ordine del giorno per un por con l'amore che ha avuto con Akansa Bank. Si fa anche un nome con i suoi post sui social media. Ercel, che è andato in Grecia dopo l'Italia, ha finalmente condiviso le sue pose con un vestito blu. Una delle stelle nascenti dell'ultimo periodo, Ande Ercel si fa un nome con la sua collaborazione con Akansa Bank. La coppia Ande Ercel e Akansa Bank, che nelle scorse settimane è andata al concerto dei Coldplay a Milano, in Italia, è passata a Porto fino da lì. Godendosi il mare, la sabbia e il sole, i due sono andati in Grecia dopo l'Italia. La famosa attrice della coppia Ercel Sabank, che ha girato le isole greche, si fa un nome con i suoi post per le vacanze. Ande Ercel, che ha recentemente pubblicato le pose che ha posato sulla barca con il suo vestito blu a Mykonos, ha attirato l'attenzione con il suo abito a rete blu scollato. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.